Compariranno mercoledì davanti al gruppo del Tribunale di Avellino gli insegnanti dell'asilo di Solofra accusati di maltrattamenti su minori. Uno di loro deve rispondere anche di violenza sessuale nonostante il riesame abbia escluso il reato. Sarà il giudice Rotondi a decidere se rinviare o meno giudizio gli insegnanti. I fatti risalgono allo scorso anno. Era la mattina del 5 giugno 2019 quando i carabinieri del Comando Provinciale eseguirono quattro misure coercitive emesse dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di quattro insegnanti. Tre arresti domiciliari e una misura interdittiva dal pubblico incarico. Alcune misure successivamente sono state attenuate. L'insegnante accusato anche di violenza sessuale finito in carcere per inosservanza delle prescrizioni fu sottoposto ai domiciliari per altre due persone indagate. Gli arresti domiciliari vennero sostituiti con obbligo di dimoro e con una misura interdittiva temporanea. La terza persona fu sottoposta alla misura interdittiva dal pubblico incarico. L'inchiesta sull'asilo di Via Fratta venne avviata in seguito ad alcune denunce presentate dai genitori che avevano raccontato agli inquirenti ciò che sarebbe avvenuto nelle classi dei figli. I bambini, secondo le accuse, sarebbero stati ripetutamente offesi e in alcune occasioni addirittura presi a schiaffi e più volte spintonati a rafforzare l'accusa delle mamme. Ci sarebbero anche alcuni video. Il 2 dicembre il giudice valuterà se sussistono gli estremi per il rinvio a giudizio.